Salve a tutti da Mario Santagari e da Chesslogger per i video problemi. In questa posizione muove il bianco e vince. La posizione è tratta da una partita che si è giocata nel 1908 tra Josef Emil Krejcik e Konrad Krobot. Se avete già trovato la soluzione potete scriverla qui sotto nei commenti. Da parte mia vi do appuntamento alla settimana prossima sempre con Mario Santagari e Chesslogger per gli immancabili video problemi. Ciao a tutti! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie!